Perla Vatiero chiede a Mirko Brunetti, mi ami ancora, e la sua risposta è sorprendente. Il ritorno di Mirko Brunetti nella casa del grande fratello come ospite speciale ha generato aspettative di una riconciliazione romantica con Perla Vatiero. Tuttavia, la realtà ha dimostrato di essere ben diversa. Nonostante siano stati costretti a condividere lo stesso spazio per 48 ore, tra i due non è accaduto nulla di significativo. Mentre Perla sembra ancora innamorata e cerca disperatamente un segnale d'affetto, Mirko mostra incertezza e si concentra più sui dettagli grammaticali che sui sentimenti. Corregge i suoi errori linguistici, spiegandole persino la distinzione tra i verbi stabilire e restaurare. Inoltre, le fa notare di non abusare dell'avverbio sostanzialmente e corregge persino un congiuntivo. Quando Perla lo mette alla prova con la domanda mi ami ancora, la risposta di Mirko è evasiva, il nostro problema è se ti amo o no, e di fronte all'insistenza su quanto lui abbia fiducia in lei, risponde candidamente, su una scala da 0 a 10, credo che la mia fiducia in te si avvicina allo zero. Anche il comportamento di Mirko è freddo e distante, come dimostrano numerosi video pubblicati su Twitter. In diverse occasioni, Perla ha cercato affetto, ma è stata ignorata. Il destino della relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti rimane incerto. Quello che è certo è che chi sperava in un riavvicinamento romantico nelle prime 48 ore è rimasto deluso.